La mozione sull'Europa, su cui volevo dire una cosa anch'io sulla questione dell'euro. Parlo da qui, perché almeno per economia... Però io vorrei che fosse chiara una cosa. Premesso che la Lega storicamente ha azzeccato tutte le analisi, ha denunciato per prima e per unica quello che sarebbe stato il disastro generato dall'introduzione dell'euro. Tanto è vero che noi abbiamo votato contro l'introduzione dell'euro, abbiamo votato contro tutti i trattati che ne sono seguiti, abbiamo votato contro il fiscal compact, eccetera, eccetera. Però, a mio avviso, quando noi diciamo uscita dal sistema euro, dobbiamo intenderci bene di che cosa parliamo. Noi non proponiamo il ritorno alla lira italiana, perché l'Europa, correttamente intesa, è un qualche cosa che supera lo Stato italiano. Allora, io ritengo che il discorso che fanno in alcuni paesi contro l'euro, ad esempio in Francia, è un discorso di tipo nazionalista. A noi non interessa dire siamo contro l'euro per tornare all'Italia e alla lira italiana. Noi siamo, per definizione, per vocazione europei. Qualcun altro, magari in Italia, non ha questo tipo di vocazione. Quindi noi vogliamo un'Europa diversa, un'Europa in cui la nostra vocazione, dei Lombardi, dei Veneti, dei Piemontesi, è una vocazione che evidentemente è probabilmente diversa da altri che hanno diverse regole di vita, diversi stili, diciamo così, di comportamento per quanto riguarda anche la gestione dei conti pubblici e hanno economie fondamentalmente diverse. Per questo motivo io penso che dobbiamo capire bene cosa stiamo dicendo. Noi non vogliamo questo euro, vogliamo uscire da questo tipo di euro, ma vogliamo una moneta europea che in qualche modo rispetti le nostre caratteristiche, della nostra economia e ci permetta appunto di continuare a fare economia senza essere strangolati. Da un lato, da una Bruxelles che è cattiva, perché è cattiva Roma, che in qualche modo ci ha messo in ginocchio e ci costringe subito tutto questo. Quindi questo è il senso, secondo me, del passaggio relativo all'euro. C'era anche Tosi quella di qualcosa? Sì, proprio inserendomi su questo dibattito, così come è formulato il testo, di fatto si sostiene in automatico l'uscita dall'euro, perché così c'è scritto. La qualcosa, credo, vada valutata anche in termini di reazione da parte del sistema economico, delle imprese, perché insomma sono degli aspetti non secondari. Allora forse io chiedo se è possibile riformularlo, nel senso che noi proponiamo un referendum per chiedere che i cittadini si esprimano se ritengono o meno di restare dentro l'attuale sistema euro. È più democratico e credo che sia anche più sostenibile rispetto al patto di dire usciamo dall'euro punto. E quindi riformularla in questo senso, attraverso un referendum, verificare se i cittadini vogliono o meno la nostra permanenza nel sistema dell'attuale moneta unica euro.